Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 in tutta la regione Marche c'è la rassegna stampa anche se poi ci concentreremo come facciamo tutte le mattine alle 7.30 sui quotidiani con l'edizione di Pesaro e Urbino Benvenuti alla rassegna stampa dicevo, cominciamo dal santo di oggi il santo del giorno è, la chiesa ricorda oggi la Beata Vergine Maria il sole è sorto alle 6.20 e tramonterà alle 20.02 il cielo, il tempo per la giornata di oggi così come per il resto della settimana abbiamo detto ieri sarà una settimana di sole con temperature soltanto in diminuzione nei valori minimi infatti basta uscire presto al mattino di casa per accorgersi che in effetti ci vuole la felpa cioè è freschino al mattino poi naturalmente durante la giornata le temperature tendono a salire questa è l'immagine di domani, mercoledì 23 e poi giovedì 24 vedete soltanto alcune nuvole intense soprattutto nella parte meridionale della regione ma limitatamente ai settori montani insomma un fine settimana è ancora all'insegna del tempo buono vediamo i giornali allora, cominciamo subito dal Corriere Adriatico questa è la pagina di Pesaro principale ROF, Rossini Opera Festival e Turismo che bel canto per ristoratori e albergatori c'è l'effetto festival sulla stagione turistica bene le presenze, gli hotel e anche i locali dunque si chiude questa sera la 38esima edizione del Rossini Opera Festival che anche quest'anno ha riscosso un enorme successo sia dal punto di vista artistico che di pubblico con il concerto finale dedicato allo Stabat Mater mentre due casi in Italia, lo vedremo tra poco anche nella pagina interna del Corriere due casi in Italia, uno nelle Marche trovate uova all'insetticida c'è stato anche il sequestro e lo stop di tutta l'azienda il Ministero dice che i dosaggi non provocano però intossicazioni dunque rassicura la prima pagina invece del resto del Carlino è per i vaccini tutti in fila adesso per far vaccinare i figli lo ricordiamo c'è l'obbligo per farli andare a scuola folla al Dipartimento di Via Nanterre a Pesaro le voci dei genitori tra paure ed esitazioni non ho scelto, dice la maggior parte dei genitori non ho scelto a cuor leggero ma in qualche modo sia obbligati poi questa foto che invece riporta un incidente un incidente avvenuto ieri sempre a Pesaro paura, lei è rimasta illesa lei è una ragazza di 23 anni che ha capotato con la macchina scene da film a muraglia auto fa da trampolino e poi al supermercato fido non entra gli animalisti di vieto ingiusto la guerra dei cani nella vicina cattolica invece è tutto diverso il conad della celletta si era attrezzato con appositi carrelli ma l'Asur non ha dato il permesso e il titolare dice devo attenermi comunque alla norma insomma dove c'è da mangiare? allora trovate uova infettate all'insetticida questa è la pagina delle marche ritirati i lotti bloccato lo stabilimento in provincia di Ancona il ministero dice i dosaggi che sono stati rilevati non sono tali da provocare intossicazioni i controlli allo stabilimento sono stati eseguiti nel giorno scorsi nell'ambito degli accertamenti voluti dal ministro Lorenzin e attuati in tutto il territorio nazionale per la ricerca di eventuali contaminazioni su uova prodotti derivati e alimenti che li contengono oltre allo stabilimento marchigiano ha subito lo stop un laboratorio artigianale di pasta all'uovo che è situato però in provincia di Roma la pagina di Fano nel dorado delle biciclette c'è anche la vostra insomma nel garage di un fanese sono state trovate circa una cinquantina di biciclette tutte chiaramente di provenienza illecita rubate nel garage modelli da 1500 euro pronti per il mercato romagnolo la polizia teneva d'occhio un'abitazione in via del Carmine a Gimarra a Fano dove vive un albanese già noto quando l'hanno visto prendere una bici l'hanno seguito a San Lazzaro sono due casi separati ma comunque che hanno riportato alla luce un discreto numero di biciclette poi la notizia invece che arriva da Calcinelli sono le 14.20 di nell'altro giorno quando in un caseggiato del quartiere Villa Franca nella zona residenziale a ridosso della vecchia ferrovia è scoppiato un violento alterco tra due donne sedato soltanto dai carabinieri insomma il motivo hai dei figli maneschi e quindi la piglia abbottigliate una lite furibonda una donna che è stata poi portata al Santa Croce ma a quanto pare c'è una convivenza difficile in questo condominio perché i vicini di casa dicono beh insomma siamo esasperati qui queste due donne si scontrano praticamente per ogni cosa poi c'è l'argomento che ha tenuto banco per gran parte di questa estate quello relativo allo Chalet del Mar questo locale che si trova sulla spiaggia e che richiama l'attenzione di centinaia e centinaia di giovani perché in tutta la provincia soltanto lo Chalet scende in campo l'unica parlamentare della città Lara Ricciatti che insomma si pone questa domanda e dice stupisce l'ennesimo episodio soprattutto ridosso della settimana di Ferragosto non c'è dubbio che le regole vadano rispettate e che a rispettarle debbano essere tutti perché però sempre lo Chalet il legale del locale ieri ha presentato la domanda di revoca del sequestro lo ricorderete sono stati sequestrati gli impianti di diffusione gli impianti audio si discute anche sul carro di Rossini il carro che dovrebbe essere realizzato per la prossima edizione del Carnevale di Fano il carro di Rossini però esiste già lo scopriamo questa mattina nella pagina 10 del Carlino e grazie all'artista Pierluigi Piccinetti che lo vedete in questa fotografia è nel suo studio il carro fu progettato nel 2001 per i 200 anni dall'esibizione al Teatro Torelliano del Giovane Rossini ecco come lo ha pensato appunto Pierluigi Piccinetti che è un maestro davvero in questo senso non solo della gomma più ma proprio è un maestro del Carnevale di Fano ecco come l'ho pensato ironia e genialità nel progetto del maestro Piccinetti definito anche il budget si parla di 50 mila euro lordi a carico però del comune di Pesaro siamo sulla pagina sempre del resto del Carlino di Fossombrone Caglio Urbania ora basta prelievi sul Pozzo del Burano uno scandalo intervenga la magistratura la protesta di Marcello Mei presidente provinciale dell'Udc mancano dati scientifici e di sicurezza che possono giustificare questo uso non si abbassa la protesta dunque per il prelievo di acqua fossile dal Pozzo del Burano e questa volta il presidente provinciale dell'Udc nel suo comunicato va oltre e chiede appunto l'intervento della magistratura poi altre notizie potrete trovarle sempre sulla pagina 13 del resto del Carlino ma noi adesso cambiamo giornale per un attimo andiamo sulla pagina di Fano del Corriere e anche qui si parla dello chalet lo chalet chiede il dissequestro ma per noi l'estate è già finita il legale dei gestori protesta e dice provvedimento abnorme e senza dati a confronto secondo l'avvocato il locale è in possesso di tutti i permessi necessari all'attività opposizione invece al veleno sempre su questo argomento puniti i giovani che lavorano 5 stelle questo è il frutto di anni di lassismo e permessi firmati ad hoc città per giovani sì sballo invece no l'assessore Marcheggiani dice organizzate tante iniziative per ragazzi ne faremo ancora ma non vogliamo incoraggiare chi ciondola per tirare l'alba presto avremo comunque nuovi confronti dovremo intercettare e offrire alternative a chi esce con il budget pensato per bere in garage 50 biciclette rubate tutte da trasformare cambiava gli accessori poi le riverniciava per poterle rivendere dragaggio del porto di Fano il progetto definitivo c'è approvato dalla giunta presto saranno rimossi 27.000 metri cubi di materiale e poi una tartaruga siamo sulla pagina di Pesaro trovata morta tra i bagnanti però non si trova chi la porta via il centro recupero animali selvatici il CRAS non ancora riattivato del tutto la carcassa resta dunque sulla spiaggia però verrà rimossa nella giornata di oggi difficoltà anche per un capriolo travolto da un'auto alla fine però è stato soppresso perché aveva le gambe le zampe spezzate un mezzo perde olio scivolone in tutta la città tombaccia uno scooter finisce a terra fioccano le segnalazioni anche in altre vie un sottopasso chiuso per un po' di tempo uno scooter a terra segnalazioni in diverse zone della città di Pesaro un mezzo al momento ancora sconosciuto asseminato per diversi chilometri in alcuni quartieri della città alcune chiazze di olio forse gasolio che ha creato alcuni problemi alla circolazione in piscina va a fuoco il cloro paura per il fumo sprigionato pompieri sono intervenuti all'impianto del parco della pace se inalati i vapori lo ricordiamo sono tossici attenzione poi c'è anche la notizia del centauro Claudio Ferri il funerale si terrà domani nella chiesa di Novilare domani pomeriggio alle ore 16 a Urbino sul Corriere sul resto del Carlino si parla di sanità sanità bollente il sindaco di Urbino convoca l'assemblea di area vasta il nostro ospedale rischia di scoppiare le tre strutture di comunità non soddisfano c'è il monito la regione rispetti gli impegni prese garantisca i servizi per i cittadini poi sulla pagina invece del Corriere di Urbino ancora in ballo ancora il tema della festa del Duca che si è chiusa con un grande successo di pubblico ma che continua a far discutere perché perché i rapporti tra gli organizzatori i rappresentanti di Ars Ducale che organizzano la festa del Duca e il comune quindi il sindaco Gambini in particolare i rapporti non sono idilliaci non sono buoni e allora ci sono queste accuse lanciate attraverso la stampa i nostri bilanci adesso dicono quelli della festa del Duca sono pubblici anche il sindaco li ha visionati finita la festa non le polemiche tra appunto organizzatori e comune andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico Fossombrone è pronta ad accogliere l'elisoccorso l'attuale eliporto è attrezzato per il volo notturno dunque l'eliporto di Fossombrone è abilitato anche per il volo notturno ed è pronto per svolgere la funzione primaria nella revisione geografica dell'elisoccorso nelle Marche le ultime indicazioni lasciano intendere che il secondo elicottero del 118 che ha la sua base a Fabriano vista la vicinanza in linea d'area con Perugia può essere trasferito nel Pesarese al fine di tutelare le emergenze più gravi in tutto l'entroterra così come indicato dal governatore Ceriscioli dalla Valle del Cesano giovani e bellezze culturali unione tra scuole e comune terre roveresche nuti e pomodoro intesa sul progetto che punta alle eccellenze poi da Senigallia alcol e minori barista denunciato scatta il blitz della polizia nei locali segnalati numerosi ragazzini ai tavoli con superalcolici gli esercenti dicono ma gli acquisti li fanno i maggiorenni e già purtroppo è anche così l'ultimo gioco invece segnalato a Senigallia hanno una fantasia giovane a Senigallia che fa paura l'ultimo gioco smontare e spostare i segnali stradali e questa è l'ultima moda segnalata dal Corriere Adriatico che in questa estate ci ha regalato davvero tante tante segnalazioni a volte da mettersi le mani sulla testa dalla disperazione altre volte insomma un po' così ma questa è l'ultima moda cioè quella di spostare segnali vedete questo è stato messo direttamente su un pino su un albero da Senigallia invece il lutto per la morte di Pesaresi principe del turismo aveva 64 anni l'ascesa da Cameriere in storici locali a gestore del ristorante e dancing garden negli ultimi anni si era dedicato con successo alla pittura celebri i jolly nei quali si autoritraeva e i funerali alle 15.30 nella chiesa dell'ospedale dove è allestita la camera ardente l'ultima pagina sempre da Senigallia notte nera nel segno della qualità c'è Mac Vessillo dei valori artistici la sera dei conti la creatività delle performance convince un pubblico che non si è fatto intimorire dalla pioggia e questa è l'ultima pagina della nostra rassegna stampa volano gli occhiali ok noi ci rivediamo stasera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia c'è il nostro sito internet l'applicazione su gli store Google, Android e Apple con Apple Store e il numero di telefono per le vostre segnalazioni che avete visto appena in sovraimpressione grazie per averci seguito a voi tutti gli auguri di una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti.